E' tutto pronto per alzare il sipario e accendere i riflettori su Vestire gli ignudi di Luigi Pirandello. Sabato 19 marzo alle 20.30 e domenica 20 marzo alle 18.30 Luigi Frasca, Angela Caterina e Massimo Borriello con Sofia Grandiosa, Andrea Gisi, Rino Rullo e Anna Todisco saliranno sul palcoscenico del Teatro d'Europa di Cesinali per mettere in scena l'opera che racconta la storia di chi, sentendosi nudo, di per sé giudicandosi insignificante, si riveste dei panni, fossero pure sporchi e laceri, che gli altri gli fanno indossare. Il tema molto forte ma anche molto attuale. Dietro tutti i temi cari a Pirandello c'è una sorta di guayerismo della notizia, cosa che accapita tutt'ora anche con i social. E poi l'altro motivo è che noi riprendiamo, finalmente, speriamo senza più interruzioni, una stagione teatrale che è stata di nuovo interrotta per la pandemia. I protagonisti sono praticamente Ersilia Drei, che ha un suo vissuto, una sua ricerca di trovare negli altri il suo vestito, ma non lo trova, non lo trova nessuno, meglio, lo troverà ma sballato e quindi alla fine rimarrà nuda, nel senso che dovrà morire nuda senza nemmeno un vestito neanche da morte. Questo è, diciamo, il tema portante un po' di tutto il dramma. Particolarmente caro questo spettacolo ed era in serbo da molto tempo la possibilità di poterlo fare e l'abbiamo potuto fare perché abbiamo trovato dei bravissimi attori che faranno parte di questo dramma, perché è un tema molto lontano. Fra l'altro è stato rappresentato la prima volta nel 1922, giusto cent'anni fa, ma rimane ancora molto attuale il tema, cioè lo smarrimento dell'uomo, e mai come in questi momenti è molto forte, e anche la ricerca di andare oltre, diciamo, oltre se stessi, cercare di trovare, diciamo, un gioco un poco anche più alto la propria anima.